Buongiorno a tutti, oggi è il 4 febbraio 2012, siamo a qualche chilometro a sud di Lugo di Romagna, sono le 2 del pomeriggio, la temperatura è di circa 3 gradi sotto lo zero, tira un forte vento di bora ed è nata una piccola bufera di neve, come vedete al suolo ci sono ancora una trentina di centimetri della vecchia nevicata, più adesso sta accumulando anche se in realtà non sta nevicando molto forte, più che altro il vento dà un po' l'effetto di una tormenta. Direi che è una giornata quasi siberiana è lecito, non via, non c'è una faccia. Qui in realtà siamo in una zona della Romagna che qualche giorno fa ha fatto circa 32-33 centimetri ma ne ha fatte relativamente poca rispetto a certe zone come Forlì, come Cesena dove ci sono 60-70 centimetri di neve, per non parlare dell'Appennino, anzi delle prime colline di Cesena dove superano il metro e 50. ù come Grazie a tutti.